Io resto a casa Giorno 2 What Remain of Edit Films Questo titolo è un di quei titoli che, durando poco, mi sono sempre detto lo gioco dopo, lo gioco dopo, lo gioco dopo e non l'ho mai messo dentro Ormai mi hanno spolerato quasi tutto dalla storia, da cosa c'è all'interno, cosa andrò incontro però lo voglio comunque vivere come esperienza perché, a detta di molti, è un'esperienza molto profonda è un gioco che si fa giocare un gioco story-driven, sì ma dove la storia è ben congegnata e non è una soap opera The Last of Us ha una vera storia profonda la grafica è anche accattivante alcune scene che ho visto nei vari trailer o nei vari classifichi alla WatchMojo maniera mi hanno intrigato quindi anche e soprattutto nel video di gioco con lo scemo che vi linko in alto e quindi, ok il giorno 2 mi dedicherò a What Remain of Edit Films iscriviti al nostro canale